buona giornata amici da massimo foghetti bentrovati alla rassegna stampa di fano tv con la quale iniziamo come sempre la giornata ebbene vediamo oggi le notizie che appaiono sul corriere adriatico e sul resto del cardino a partire dall'almanacco del giorno in cui vediamo che oggi si festeggia san galdino san galdino eccolo qua visse a milano nel dodicesimo secolo ai tempi ai tempi dell'invasione dell'esercito dell'imperatore federico barbarossa erano tempi molto burascosi insomma è il periodo della lega lombarda e del giuramento di pontida galdino che era stato nominato arcivescovo di milano si schierò con il comune con la lega ma si occupò soprattutto dei poveri e per questo fu proclamata la sua santità ovviamente si schierò dalla parte del popolo contro l'usurpatore questa era un po l'idea politica appunto che faceva sì che milano cercò di resistere all'invasione del barbarossa anche con il supporto della fede e della religione san galdino molto venerato appunto nella città meneghina anche per questo suo trascorso di carattere pseudo politico ed ora diamo un'occhiata le previsioni del tempo ecco la mappa nelle marche ancora una giornata che sarà caratterizzata da molte nubi con precipitazioni sparse più probabile nei settori meridionali ovvero nella bassa marche il clima è piuttosto fresco la temperatura minima è scesa fino a 11 gradi la massima non varia di molto siamo sui 16 gradi i venti sono deboli sia sulle coste che nell'entroterra da nord nordeste il mare è molto mosso e questa è un po la previsione tempo incerto ancora la primavera tarda ad arrivare e soprattutto tarda stabilizzarsi l'alta pressione ed ora apriamo il giornale sul resto del carlino vediamo la pagina di fano eccola qua ennesimo blitz al vittoria colonna ennesimo blitz ennesima incursione da parte degli uomini del commissariato di fano dove anche all'interno hanno trovato bivacchi sporcizia e hanno denunciato otto occupanti abusivi è una un'altra un altro blitz insomma è il blitz che è venuto la settimana scorsa ne abbiamo già parlato sui giornali prima della fine della scorsa settimana comunque oggi c'è un approfondimento del resto del carlino vediamo che coloro che sono stati trovati all'interno senza averne titolo sono erano alcuni albanesi anzi un albanese poi c'erano degli africani tunisini somali e provenienti dalla guinea tutti richiedenti asilo sono stati allontanati dall'edificio e denunciati a piede libero per invasione di edifici comunque le condizioni dei locali sono veramente terribili queste persone alloggiavano in pessime condizioni igieniche vetri spaccati disseminati per terra pezzi di mobili rotti escrementi sia umani che animali centraline elettriche devastate materassi rotti e sporchi insomma una situazione veramente infernale i giornali fanno bene ogni tanto a rilevare questa situazione che in qualche modo deve essere a cui bisogna fare fronte insomma perché veramente non si può lasciare uno stabile che pure è bello in quelle in quelle condizioni in cui si trova un grande stabile che potrebbe assolvere a tante funzioni di carattere sociale di carattere turistico di carattere ricettivo eppure viene lasciato in abbandono così assolutamente non va una notizia di cronaca a fondo pagina del resto del Carlino arrestato D'Angelo si stava occupando del campo dei militari chi è D'Angelo? Danilo D'Angelo ora è rinchiuso nel carcere di Poggio Reale a Napoli da più di un mese è stato accusato di frode fiscale l'accusa che si legge nell'ordinanza di custodia cautelare che gli è stata notificata dagli uomini della Guardia di Finanza Danilo D'Angelo originario di Caserta ma noto a Fano per la sua collaborazione con il presidente del Fano Calcio Mario Russo lui è di professione commercialista D'Angelo era già stato interdetto nel 2022 dall'attività a seguito di un'indagine che aveva compiuto contro di lui la Guardia di Finanza per un imprenditore che aveva così coinvolto che aveva orchestrato diciamo meglio un articolato sistema di frode fiscale almeno questa è la tesi della Guardia di Finanza che ha a che fare il presidente Russo con questa persona Russo ha spiegato un mio amico stava passando un momento di difficoltà mi aveva chiesto una mano e io l'ho aiutato assumendolo come dipendente in una delle mie aziende una collaborazione iniziata a maggio dello scorso anno quindi nel 2022 e per la squadra per il Fano Calcio stava seguendo questioni amministrative come quella della realizzazione del campo di allenamento di Fano al campo dei militari in questo campo dei militari che dovrebbe essere appunto adibito in maniera strutturale in maniera idonea ad allenamento per i giovani del Fano Calcio questo è quanto ferma il resto del Carlino oggi e vediamo un'altra presentazione che c'è stata della giornata di ieri ci sono state delle anticipazioni per il Festival del Brodetto che quest'anno come una novità non si tiene più a settembre quando c'era poi il fermo pesca ma si tiene dall'1 al 4 giugno ebbene c'erano tante persone ieri le vediamo qui in questa fotografia che hanno parlato di questa manifestazione della quale anzi uno studio condotto dalla Università di Urbino ha rilevato un impatto economico considerevole per tutta la città di Fano circa 20 milioni di euro questo è quanto è quanto produce produce scusate mi sono sbagliato dunque sono 20 mila visitatori per 2 milioni di euro 20 milioni erano veramente troppe mi sono confuso 20 mila presenze tra quelli che sono residenti e quelli che vengono da fuori poi c'è tutto qui un sistema di analisi articolato appunto dai ricercatori dell'Università di Urbino che hanno puntualizzato i luoghi di provenienza le tendenze le prospettive insomma uno studio articolato che ha veramente accertato l'impatto economico di questo festival nella città di Fano ora un impatto che si produce in bassa stagione quindi ancora più prezioso perché ancora all'inizio di giugno non siamo nel top delle presenze turistiche e il proietto festival è in grado di attirare tante tante persone soprattutto straniere e quest'anno infatti la promozione verrà fatta su due paesi esteri che sono stati individuati come interessanti innanzitutto verrà fatta l'Istituto della Cultura di Londra grazie anche all'intervento dell'ambasciata attivato grazie all'interessamento del Ministero dell'Agricoltura ieri c'era anche il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Diputati Mirko Carloni che ha evidenziato questa cosa l'altra iniziativa importante è quella della partecipazione alla fiera alla fiera delle risorse etiche di Barcellona una delle fiere più importanti appunto che si svolgono in Europa dunque una iniziativa che si appresta a decollare con interessanti ripercussioni nel territorio della città di Fano ma anche della provincia ed ora i giornali che stamattina rivelano a chi è stato attribuito il maggiore riconoscimento della città di Fano ovvero la fortuna d'oro sono Francesco Tonucci e Carlo Simoni baciati dalla fortuna d'oro in titola oggi il resto del Carlino ecco qui i due personaggi qui abbiamo Carlo Simoni qui abbiamo Francesco Tonucci Francesco Tonucci il pedagogo che ha lanciato il progetto Fano città dei bambini che Fano ha adottato fin dal 1991 una delle prime città che ha così manifestato questo interesse di carattere urbanistico rivolto ai bambini perché se si costruisce una città a misura di bambino lo si fa anche così per un contesto urbanistico ideale a favore degli anziani l'artista e il pedagogista riceveranno venerdì a teatro l'ambito riconoscimento la città è cresciuta con loro lo hanno detto ieri il sindaco Massimo Aseri e la presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli che hanno un po' presieduto la commissione che ha valutato tutte le candidature scegliendo appunto questi due personaggi che molto hanno fatto per dare lustro a livello nazionale alla città di Fano un processo nipote 007 smascherò la ladra che rubava in casa della zia ora è arrivata la condanna ebbene questa è una storia così che fa un po' sorridere ma non tanto per quanto riguarda i protagonisti che cosa è accaduto è accaduto che una signora vedeva sistematicamente sparire dei cibi all'interno della sua casa qualche spicciolo qualche soldarello qualche pacco di biscotti e non si riusciva a capire come questo poteva accadere pensava a una sua distrazione quando ne ha parlato con il nipote il quale ha sistemato una telecamera e che sottima sorpresa una vicina di casa che si intruffolava in casa e arraffava quanto poteva ha arraffato 35 euro dice il giornale più portafò più biscotti cibo di vario tipo tutto tutto questo in due in due incursioni ebbene è stata denunciata e quindi la vicenda è arrivata a processo si tratta di una fanese di 67 anni che è stata condannata per furto aggravato dal giudice Andrea Pesantelli a un anno e 10 mesi di reclusione 450 euro di multa e al pagamento di 2000 euro come risarcimento d'anni alla proprietaria di casa niente beneficio della pena sospesa perché l'imputata aveva un vecchio precedente sembra per lo stesso reato quindi un'abitudine a cui non si era sottratta e vediamo un articolo che riguarda la sanità ieri è stato il giorno in cui molti esponenti della giunta regionale hanno presentato la bozza del piano sanitario regionale a Fano lo avevano fatto in precedenza ad Urbino ieri è toccato alla città della fortuna l'incontro si è tenuto nella sala del gonfalone in via Rinalducci erano presenti il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli il assessore alla sanità Filippo Saltamartini poi c'erano anche gli assessori Aguzzi e Baldelli oltre al commissario dell'azienda territoriale sanitaria Gentili è stato spiegato quello che sarà il piano sanitario in grandi linee il piano sanitario regionale con tutte le modifiche che questo condurrà sta conducendo anche perché poi la trasformazione dell'azienda ospedaliera in azienda territoriale sanitaria è già avvenuta tutte le trasformazioni che questo condurrà appunto nella organizzazione della sanità il il Corriere Adriatico dice che questo piano non condurrà grandi iniziative lo evidenzia in questo titolo piano sanitario regionale tappa fanese senza novità nessuna indicazione precisa per il Santa Croce la fondazione Carifano rilancia la RSA rilancia la soluzione almeno parziale di un problema che coinvolge soprattutto la terza età quella degli anziani quella della cronicità delle malattie quella appunto della disabilità e a Fano manca una RSA la fondazione Carifano si è dimostrata a realizzarla però occorre che questa venga inserita nel piano sanitario regionale almeno poi per quanto riguarda le prestazioni convenzionate questo è quanto ha proposto poi uno degli ex primari del Santa Croce come Antonio Lacetera che diresse geriatria ma vediamo come l'attenzione del resto del Carlino si pone un po' su quanto ha detto il Vescovo che ieri era presente a questo incontro il Vescovo che ha avuto una sua esperienza personale profonda per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e spesso è intervenuto con parole senza peli sulla lingua per quanto riguarda le carenze che l'assistenza sanitaria del nostro territorio evidenzia ebbene il Vescovo ha detto svegliatevi e nominate i primari al più presto lo ha detto appunto agli amministratori ai rappresentanti della regione perché ha detto il Santa Croce nel corso degli anni ha perso due eccellenze come ortopedia e neuropsichiatria infantile reparti nei quali venivano a curarsi da tutta Italia e ora non ci sono più e poi ha parlato anche di carenze di personale soprattutto di interventi da fare nel territorio perché poi è il territorio che sopporta le maggiori carenze rispetto alla costa ci sono stati poi tanti altri interventi quello del sindaco Massimo Aseri che ha descritto una nuova visione sanitaria regionale da parte degli amministratori che è stata assimilata ad un terremoto con il timore che la transizione possa abbassare poi il livello della prestazione insomma tutto è ancora da verificare nel territorio sono intervenuti anche i sindaci dell'entroterra la Guidarelli da Pergola a Valtroni il sindaco di San Costanzo Stefanelli insomma sono venuti altre sono intervenute altre persone evidenziando tutto quello che i cittadini dell'entroterra soprattutto provano nei confronti della regione per quanto riguarda l'assistenza sanitaria di cui loro poi sono quelli che sopportano gli effetti più critici ed ora passiamo ad un altro articolo qui sotto c'è un articolo che proviene da Mondolfo dove si è stato istituito uno sportello psicologico garantito da Mazzanti garantito da Davide Mazzanti sarà un testimonial Mazzanti lo sappiamo tutti è il coach della nazionale femminile di volley ebbene lui sarà un testimonio di questo nuovo servizio che viene rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di un confronto sia individuale di coppia o familiare con un personale qualificato per ricevere una consulenza oppure un sostegno in relazione a temi ed eventi della propria vita personale o familiare quando uno si trova in una situazione particolare non sa come risolverla ebbene può fare riferimento a questo servizio anche di livello psicologico che può aiutarlo a districarsi da un momento di crisi andiamo ad Urbino e parliamo di turismo quando si parla di Urbino si parla spesso di turismo perché questa città rinascimentale attrae tantissime persone ebbene il turismo ora vola verso l'estate ma gli stranieri sono ancora pochi però ebbene nelle Marche abbiamo una presenza percentuale di stranieri che è inferiore alla media nazionale e questo dovrebbe un pochino così indirizzare la promozione non solo a livello nazionale ma anche a livello estero perché le Marche non hanno nulla da invidiare ad altre regioni come l'Umbria come la Toscana che magari sono più sulla cresta dell'onda è l'analisi di Scaramucci presidente di Inside Marche Live associazione regionale di tour operator di incoming il quale ha analizzato i dati rilevati da Lassu Turismo durante le festività in Italia il 65% delle camere era prenotato con circa 7 milioni di presenze e i dati di Urbino in questo caso sono in linea veramente gli ultimi weekend e soprattutto le ultime festività hanno gratificato gli operatori turistici hanno gratificato i ristoratori gli albergatori i quali hanno lavorato assiduamente l'analisi di Scaramucci in Italia il 50% dei visitatori viene dall'estero nelle Marche però siamo sotto il 20% Pasqua è andata bene i ponti verso tutto esaurito resta però il problema della mancanza di personale e questo veramente è un problema che angoscia angoscia gli operatori e qui c'è un'altra angoscia un'angoscia veramente motivata perché la contessa è già chiusa e gli esercenti sono disperati sono disperati soprattutto quelli che hanno delle attività a Cantiano a Gubbio in mezzo alla strada sono quelle attività che hanno bisogno di un passaggio di un transito di un afflusso ebbene con la strada chiusa tutto questo viene a cessare Gianluca Natichi di 50 anni a Cantiano strutture turistiche in cui lavorano 10 persone ma prevede un calo dell'80% delle attività ebbene ancora l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi si cerca di promuovere una raccolta di firme da parte dei cittadini per chiedere il rigoroso rispetto dei termini del lavoro della durata dei lavori e poi delle risposte certe sui ristori che dovrebbero essere date alle attività economiche sgravi fiscali in favore delle attività commerciali e ricettive l'organizzazione completa ed efficiente della viabilità alternativa ebbene l'alternativa da ieri per chi ovviamente non può più percorrere la contessa per andare in Umbria ma per andare anche a Roma per andare anche nel centro Italia l'alternativa è il percorso Cantiano Scheggia Gubbio con tratti molto tortuosi e naturalmente è una strada più lunga del tragitto non sarà certo agevole salire sulla Scheggia anche se un passo si ritorna un po' indietro di 50 anni fa e allora vediamo anche qualche notizia di Pesaro vediamo come si parli qui di alberghi zona mare si cambia via la demolizione dell'hotel Garden tante novità in spiaggia eccolo l'hotel Garden un edificio piuttosto alto con parecchi appartamenti ebbene è stato delimitato il perimetro dell'albergo che sarà ricostruito dopo l'estate questa volta intanto c'è il bando dell'arma per la gestione del lido del carabiniere cambiamenti anche in altri stabilimenti col solito nodo del personale anche qui manca il personale e ieri la famiglia Manetti ha dovuto dare l'addio alla sua abitazione Alessandro casa addio ebbene in queste parole c'è tutto il dramma tutta la motivazione struggente di aver perso la propria abitazione sono state consegnate le chiavi e dura andarsene però ora riparteremo e si ricomincia con la forza della disperazione e le 26enne disabili e la famiglia hanno lasciato l'abitazione venduta all'asta adesso una sistemazione provvisoria da parte di una zia poi il trasloco definitivo grazie alla disponibilità di un altro apparente il padre ringrazia il prefetto e il questore però ha delle parole un po' critiche nei confronti del comune e del sindaco di Pesaro dal quale dice non ha ricevuto nemmeno una telefonata comunque il 15 maggio sarà una sua parente la zia Fernanda ad aprirgli la casa come aveva promesso e intanto sempre a maggio ci sarà il processo per l'incidente di cui è stato vittima Alessandro il ragazzo che è stato coinvolto in un incidente stradale e quindi gli sarà ascoltato un testimone e la presenza di questo testimone ha dato un barlume di luce e di speranza a questo ragazzo per quanto riguarda il suo futuro che si è acceso nel buio altri interventi il sottopasso dei capuccini si parte con i lavori batteremo il degrado questo è un po' la presa di posizione dell'amministrazione comunale il via è previsto tra giovedì e venerdì prossimo i primi interventi novità in vista per la viabilità di tutta l'area anche a piazzale innocenti si interviene per il parking selvaggio auto lasciate sulla linea di mezzeria sono i residenti che hanno rilevato questa situazione critica dicendo appunto che in questo modo non c'è molta sicurezza non si sa se questa è una via o una piazza hanno detto ma molte delle attività lavorano con i clienti che lasciano la macchina dove capita sono interessi confliggenti ovviamente gli operatori hanno tutto l'interesse di favorire i parcheggi invece i residenti vogliono che questi vengano sistemati in maniera regolare ed ora diamo un'occhiata al corriere adriatico ecco qua l'apertura l'abbiamo vista è quella sul piano sanitario regionale tappa fanese senza novità e qui abbiamo parlato qui abbiamo una foto degli intervenuti c'era l'assessore Stefano Aguzzi il commissario Gentili il Salta Martini il presidente Acquaroli e l'assessore Baldelli ed ora vediamo anche l'articolo che riguarda il Brodetto Fest leggendo il titolo Brodetto Fest tradizione marinara l'evento ora diventa internazionale vediamo invece a Marotta a Marotta uno spazio di aiuto psicologico coach Mazzanti è il testimone mentre a Fossombrone è nato il sentiero per tutti attrezzato per le disabilità anche il Corriere Adriatico parla della fortuna d'oro che viene data ai fanesi Tonucci e Simoni ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci grazie per l'ascolto a risentirci Grazie.